ciao ragazzi buongiorno da max nel video di ieri abbiamo visto come si struttura e si dichiara una proprietà transition in css e abbiamo visto inoltre come sfruttare il passaggio fluido tra un valore iniziale e uno finale assegnato ad una proprietà css grazie appunto al transition oggi vedremo dei simpatici effetti di animazioni con transition applicati ad alcuni elementi delle nostre pagine web e cercheremo di dare uno sprint in più alla forza e alla semplicità delle transition per rendere spettacolari le animazioni ottenute bene iniziamo subito mani alla tastiera e partiamo riprendiamo il file di ieri il nostro button che nello stato di over modifica in modo fluido grazie alla proprietà transition il valore del background e del colore del testo portiamoci sul css e modifichiamo nello stato di over la proprietà background commentiamola e inseriamo al suo posto un'ombra interna al button un'ombra che si estende sull'asse x o asse orizzontale di 20 pixel 0 per y verticale 0 per il valore di sfocatura dell'ombra l'ultimo valore è il colore dell'ombra e gli assegniamo lo stesso del background che abbiamo usato infine inseriamo il valore in set per creare un'ombra interna all'elemento guardate l'effetto adesso il background cambia colore arrivando da sinistra questo perché abbiamo impostato il valore per l'asse x dell'ombra su 100 pixel proviamo a dare lo stesso valore ma negativo quindi meno 100 pixel l'ombra arriva da destra quindi abbiamo assegnato al valore x che determina in sostanza la larghezza dell'ombra lo stesso valore della larghezza del nostro button ora se volessimo far arrivare l'effetto dall'alto dovremmo considerare per l'ombra l'asse y o verticale cioè il secondo valore della proprietà box shadow proviamo ad assegnare il valore di 10 pixel alle y dell'ombra guardate l'effetto parte dall'alto e a destra eliminiamo il meno 100 pixel e inseriamo 0 l'effetto adesso parte solo dall'alto ma si ferma ovviamente a 10 pixel per il nostro button non abbiamo definito un'altezza la sua estensione per l'asse y è data dal padding che è di 10 pixel top e bottom quindi 20 pixel quindi assegniamo alle y dell'ombra il valore di 40 pixel l'ombra adesso si estende per tutta l'altezza del pussante partendo dall'alto se inserisco il valore negativo meno 40 pixel partirà dal basso vedete ritorniamo alla nostra ombra il terzo valore definisce il livello di sfocatura più è alto più l'ombra risulta sfocata e qui non possiamo assegnare valori negativi quindi non possiamo andare al di sotto dello 0 per ora non ci interessa inseriamo invece un quarto valore all'ombra che è quello che determina il livello di diffusione più è alto questo valore più l'ombra tenderà ad espandersi in tutte le direzioni assegniamo 20 pixel vedete l'ombra che determina il colore di sfondo del nostro button sullo stato di over si diffonde gradualmente dal centro per finire assegniamo 15 pixel ad esempio al terzo valore della proprietà box shadow il valore della sfocatura ed ecco che l'effetto migliora ancora bene ragazzi abbiamo dato un piccolo sguardo alla transition in css modificando in modo fluido il colore di sfondo di un pulsante ma per farlo abbiamo utilizzato le ombre per dimostrarvi che con un po di fantasia si possono creare veramente degli effetti molto simpatici da utilizzare nei nostri progetti web domani parleremo dei le animazioni con key frames e lì ci sarà tanto da divertirsi spero che il video vi sia piaciuto mettete un bel like e se non l'avete già fatto iscrivetevi al mio canale ciao a domani